SP 64, un percorso che porta verso Iello, un percorso di corsa ora per capire bene la filosofia della corsa metterò dei lindici beh anche con la macchina si può correre anche se il lindici ha le capacità di centralizzazione che ha uno yogin ne ho spiegato il concetto di camminata a partire da Volteva nel 1981 fino al concetto di yoga e corsa in genere le corridrici come quando la donzoletta viene dalla campagna cominciano sempre comunque questo tratto di strada questo due viandanti più che corridori comunque il tratto è questo sotto poi alleghiamo i link di corsa grazie 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 grazie